Buongiorno a tutti, anche oggi siamo in collegamento con Mosè. Mosè, mi senti? Ti sento, ti saluto, ti sento bene, ti sento forte. Prima di presentare il nostro graditissimo ospite, come sempre, volevo ricordare l'abbonamento alla rivista Image e ricordare che il nostro ospite, che voglio che però sia tuo presentare, è stato pubblicato nel luglio-agosto del 2018 e quindi per chi vuole approfondire o conoscerlo meglio potrebbe leggere il suo portfoglio e la sua intervista che trovate in questo Image. Quindi a te la parola, Mosè. Allora, quello che io presenterò in questo momento per me è un piacere, un onore, perché lui è un amico innanzitutto, ci siamo amici da qualche anno e lui è un personaggio poliglotta. Lui ha lavorato tutta la vita come fotografo per l'Unione Internazionale Importante, è un collezionista di fotografia, è un collezionista di libri, è un viaggiatore e tipicamente è un fotografo che lavora per il progetto. Il suo nome è Vittorio Valentini. Eccolo qua, ciao Vittorio. Ciao Vittorio, benvenuto, benvenuto. Grazie, molto gentili. È un piacere essere qui con voi. Ecco, domani è la festa dei lavoratori e mi raccomando qui di su. Sì, andiamo tutti in schiera. Andiamo tutti a lavorare. Ascolta Vittorio, ci hanno chiuso un po' in gabbia, no? Facciamo bene perché riduciamo il contagio e curiamo la gente, ci curiamo anche così. E se domani dovessero aprire le gabbie, aprire, togliere i moschettoni, qual è la prima foto che faresti? Il primo scatto? Beh, intanto andrei innanzitutto fuori, all'aperto, in montagna forse, anzi, raggiungerei la Toscana, per me è una regione particolarmente cara, visto che ho una casa là e farei delle foto di senso, di libertà, insomma, di una certa gioia, di un certo piacere per vincere anche la diffidenza che secondo me ci sarà inevitabilmente con un'apertura in cui il virus è ancora presente e quindi le distanze e tutto ci costringeranno a delle cautele. Però, forse appunto sarebbe paesaggistica per dire respiriamo aria e vediamo una natura che ci può donare un senso di serenità dopo tanta chiusura all'interno dei cento metri di appartamento. Bravissimo, ascolta, tu hai passato ormai due mesi in casa, no, come tutti? Eh sì. Fotograficamente cosa hai fatto in casa? Hai letto libri, hai messo a posto l'archivio, hai… come è successo? Beh, allora, innanzitutto io scatto in casa, che tu l'hai lanciato anche per la rivista, per Photop, dico è stato uno dei motivi per passare qualche ora nel Fotosafari casalingo. Il Fotosafari casalingo che parte dagli oggetti alla riscoperta della casa, vedendola con altri occhi, cercando di avere stimoli rispetto alle abitudini per cui gli oggetti e le cose, i libri diventano parte del tutto e quindi si perde l'occasione di analizzarli con un occhio nuovo. E quindi dietro la macchina fotografica, con la macchina fotografica ho scoperto quelli che poi sono applicando un po' i miei stili, i miei generi della fotografia metafisica, direi che la cosa più difficile è quella che mi ha messo in crisi per come interpretarlo, perché non è la cucina, la libreria, le ceramiche, è il bagno. Il bagno è diventato il soggetto che a un certo punto è come puoi realizzare un bagno, cioè un servizio sul bagno che non sia una pubblicità di piastrelle o di lavandino. Una presa difficile, quindi non... Una ripresa, sì, ma costretto a meditare, a ragionare sulle forme e le luci in maniera particolare, facendo ovviamente alla fine sono diventate molte cose, scatti astratti, insomma. Ecco una cosa che ti chiedo, cioè secondo te, io di questo ci sono convinto, ma voglio chiederlo anche a te, secondo me delle volte l'esercizio sulla propria prossimità, che può essere la casa ma anche il proprio ambiente, è importante per scoprire una propria via toriale. Io sono convinto che uno impari a fotografare le cose che ha vicino. Secondo te quindi questo esercizio, che magari hanno fatto anche tanti altri, è importante anche a di là del coronavirus, quindi? No, credo che sia importante. A me è capitato molte volte nei corsi di fotografia che ho fatto e che faccio di dire io viaggiatore e quindi che ho bisogno di contatti e culture nuove, di stimoli nuovi, di culture diverse dalla mia per vivere di queste sensazioni e fotografarle, per parto sempre dal discorso anche, dico, che il primo approccio del nostro fotosafari può venire nella casa o nell'orto. Questa la dico sempre, cioè cominciamo da lì a indagare quello che può essere una forma nuova e diversa per allenare il nostro occhio a individuare dettagli, forme, linee, capire la luce e come valorizzare un oggetto che può essere un oggetto banale ma che è valorizzato in un certo modo anche se sono un termosifone per dire. Gli elementi di un termosifone possono venire fuori delle linee astratte che creano una bella immagine. Allora, io ti chiedo due cose adesso, andiamo un po', guarda, tu devi capire che ti stai rivolgendo in questo momento a un foto amatore che invidia la macchina del vicino, che ecco, allora una cosa, tu sei un fotografo di viaggio, domani devi partire, devi andare in quel Vietnam, ti dovevi dirigere un mese fa circa. Dove ho già tutte le tappe prese. Esattamente, quindi è pianificato il viaggio. Hai la borsa fotografica, cosa ci metti dentro? Beh, allora, nel tempo devo essere molto sincero, la borsa fotografica l'ho via via alleggerita, perché un po' l'età, un po' appunto il viaggio che è sempre un po' fatica nell'andare in luoghi, fare del trekking con lo zaino fotografico in spalla e le attrezzature. Allora, in tutti i modi porto sempre dietro due o tre macchine fotografici. Allora, partiamo da quella che può essere o la Canon con l'obiettivo con uno zoom in genere, che è il 24-105, che mi risolve molto le situazioni, sia come grand'angolo che come medio tele, e poi certamente la piccola Canon, la G7X, che la trovo meravigliosa per fare della foto così, chiamiamola foto rubata nei mercati, nelle situazioni in cui diventa difficile fotografare perché magari non hanno piacere, questa macchinina tascabile con lo schermo che si può orientare, diventa abbastanza facile cogliere qualche espressione più spontanea che non si mettano in posa o che non si ritraggiano, cose di questo tipo. E in bagno cos'è stato in casa? Era appunto la G7, perché da sotto così con lo schermo orientabile mi permetteva di giocare sulle curve, le linee degli elementi igienici del bagno, del lavandino, del bidet e cose del genere, quindi avevo bisogno di una macchina più flessibile che la EOS 5D. L'altra macchina che porto quasi sempre può essere la Fuji analogica, la Fuji Professional 4,5x6. Quindi si porti negativi a casa? Negativi bianco e nero o colore? Eh no, bianco e nero in genere. È una domanda un po' difficile, dipende, però ormai negli ultimi anni la macchina analogica la tengo per il bianco e nero meditato. Quando vedo qualche cosa che veramente mi colpisce e che previsualizzo come una buona stampa in bianco e nero, allora tiro fuori la macchina analogica per farla con un rullino in bianco e nero, come dicevo, 4,5x6. Ecco ti chiedo una cosa, visto che il tema del viaggio riguarda un po' tutti, nel senso che tu capisci che tutti sogniamo un viaggio, tutti delle volte andiamo in viaggio, tra l'altro noi italiani eravamo grossi viaggiatori, non vedi quanti aerei sono a terra adesso qui in Italia. Ti chiedo una cosa, tu pianificavi le tappe del viaggio, ma pianificavi in un certo senso anche le foto che avresti fatto, cioè in ogni zona, tu avevi l'idea di fotografare qualcosa, di portare a casa un racconto fotografico, torbo da noi, tu saresti andato da noi sicuramente, saresti andato a Dalanga, a Hue, a Ocini City. Sì, certo, certo. Per ogni posto c'era una foto da portare a casa oppure… Beh, io non so la foto da portare a casa perché, allora, certamente concepisco il viaggio in funzione di quelli che sono i miei interessi. I miei interessi sono da un lato etnografici e dall'altro archeologici storici, diciamo. Quindi in molte realtà io prefiguro un itinerario in cui se ci sono delle vestigia storiche, archeologiche, così come possa avvenire nell'America Latina oppure appunto nella parte dell'est asiatico… quindi c'è un tipo di fotografia che è monumentale. Certo. Quindi concepisco monumentale come angor, per dire, un posto meraviglioso dove puoi scattarci per dei mesi inventando fotografie e inquadrature sempre nuove. E l'altro è quello di carattere più etnico e quindi nel Vietnam avevo organizzato il giro in maniera da fare per otto giorni le tribù del nord. E proprio per quello è saltato il viaggio perché si va al confine con la Cina e cominciavano già esserci dei casi di coronavirus ai primi di febbraio e a quel punto nelle incertezze poi ho rinunciato. dico però ecco quelle che sono proprio le situazioni più diverse rispetto alle nostre conoscenze, insomma… Le nostre abitudini anche. Le nostre abitudini. Nelle città faccio più della fotografia di strada, quindi colgo la vita che si svolge lungo le strade nelle contraddizioni soprattutto in certe realtà tra quelle che possono essere le situazioni di ultramodernità che puoi trovare in Cina, in Thailandia, ma in tutti quei luoghi, in quelle città come Hanoi, come Pechino, come Shanghai e allo stesso tempo la vita delle realtà di strada in cui ci sono anche situazioni così contrastanti, insomma, del cibo di strada… Stanno scorrendo delle immagini di un tuo progetto, ci sono queste lattine schiacciate, no? Lattine di strada. Lattine di strada, no? Sai che poi tra l'altro è il progetto che esporrà il Milano Photo Festival, se ci sarà, no? Se ci sarà, sì. Doveva già essere in corso. Adesso è stato spostato a settembre, da settembre a ottobre, vediamo se si farà. Ah sì, è il progetto che avevo presentato e la direzione artistica aveva scelto questo progetto. Roberto, è proprio questo, no? Ti ricordi? Sì, sì, sì. Ecco, com'è nato questo progetto? Hai visto una lattina? Com'è successo? Ma è successo così nella curiosità di vedere… è un progetto che già si stacca un po' rispetto ai miei progetti precedenti e al mio modo di lavorare, perché si allaccia un po' di più a quella che può essere la fotografia più contemporanea, cioè quella via di mezzo tra arte e contemporanea fotografia. In quanto gli stilemi del progetto ricalcano molto quello che è la pop art per certi aspetti e la neo pop art attualmente. Ma sì, ecco, partendo proprio da lì e dal mio guardare sempre, guardarmi attorno, vedendo per strada le lattine schiacciate dall'automobile, per questo le chiamo lattine di strada, perché tutte quante nel mio progetto provengono dalla strada. Non sono schiacciate ad hoc sotto una pressa e via così, sono schiacciate dalle ruote di camion, di macchine e così. Posso dire francamente ecco che alcune le ho fatte schiacciare anche, cioè le ho messe io in strada perché venissero schiacciate, perché mi piaceva quel logo, quella lattina, quel colore e vedere che cosa ne veniva fuori. È nato quindi dall'osservare come era bella e nel fotografare la lattina sull'asfalto, così com'era. Poi dopo ci ho pensato, ci ho riflettuto e via via si è sviluppato in una paginetta che mi sono scritto quello che secondo me poteva rappresentare. Per cui le ho raccolte, cioè nei viaggi a Bologna, in giro insomma, quando ne vedevo qualcuna di interessante, le ho raccolte, portate in studio e lavorate come se fosse un oggetto prezioso, unico, in still life, fondo bianco, in maniera perché è un… Cioè, ecco, rispetto a Warhol, faccio un passo indietro, tu mi dicevi che ti sei rifatto alla pop art, sì mi sono rifatto alla pop art, ma Warhol guarda il contenitore, cioè diventa un po' proprio perché è popolare il contenitore, il liquido che c'è dentro, la bevanda e così o la zuppa. E i contenitori sono tutti uguali, sono cilindri, si cambiano i colori, cambiano le marche, ma sostanzialmente è un cilindro. Vittorio, posso dire una cosa? Siccome mentre ti sto ascoltando, sto sfogliando la rivista Image e il titolo Arte su Arte, mi piace molto, come mi piacciono molto le fotografie che vedo qui rappresentate. Però lì può esserci un po' il sunto della tua fotografia? Beh, la mia fotografia per certi aspetti si fa, si richiama ai movimenti artistici che si sono via via negli anni manifestati, da progetti che possono essere più surrealisti a progetti che possono essere metafisici e così, perché mi richiamo molto al mondo dell'arte. Nel frequentare poi gli artisti per fare ritratti, per frequentare i loro studi così, sono stati maestri nella mia formazione culturale, diciamo, creativa, nel passaggio di idee, nel confronto di idee, al di là del discorso delle tecniche, la fotografia, macchina fotografica e quindi è meccanica, il pennello oppure lo scalpello per lo scultore è un'altra cosa, si crea. Però i movimenti attorno ai quali si ruota certamente hanno dei richiami molto forti e molto in sintonia. Quindi tu consiglieresti a un fotomatore di contaminarsi anche con l'arte? Direi che, secondo me, è fondamentale per certi aspetti. Allora la fotografia la vedo in due modi, la fotografia che è scrittura e quindi racconto, quindi simile al racconto, alla narrativa, ma dall'altro le immagini che si creano si avvicinano a quello che è il mondo dell'arte visiva, in particolare quella pittorica che ha tutti i canoni estetici che sono stati travasati all'interno di quello che è le concezioni dell'inquadratura e della composizione fotografica. Perché quando parliamo della regola dei terzi, parliamo di cose che fanno parte del mondo della pittura. Quindi il frequentare e lo scambiarsi opinioni, l'analizzare le opere dei pittori, degli scultori, cioè del mondo visuale, direi a tutto campo, è fondamentale, è una grossa scuola. Quindi due sono le vie, quindi Simenon, Luigi Verga, da un lato, quindi il narratore... Perché il racconto e la narrativa stimola la fantasia, cioè ti dà una serie di elementi che mentre tu leggi, se leggi e il romanzo ti prende, tu immagini, immagini le situazioni e nell'immaginare le situazioni ti viene anche l'idea però sarebbe una bella cosa anche creare una fotografia collegata, annessa a questo concetto. Ed ecco perché io lavoro per progetti, perché nascono delle idee proprio magari attorno a uno scritto, attorno a un dialogo... Ascorda, ti faccio una domanda che tra l'altro mi riguardo, perché nessuno è responsabile. Forse te l'ho interrotto e se lo faccio di conclusa. Dovete fare voi i tempi perché altrimenti... Io molto spesso, siccome abbiamo parlato di viaggio, abbiamo parlato di progetto e di tante cose, io consiglio sempre a chi parte per un viaggio di portarsi la guida, e va bene, ma di leggere un libro di narrativa sul territorio. Vai in Cina, leggi un libro che riguarda... un racconto, un romanzo che riguarda la Cina. Vai in Australia, leggi un romanzo che riguarda la strada, perché ti inserisci nello spinto dei luoghi. Quindi la tua fantasia è bolle, no? La tua fantasia si muove, quindi forse farà delle foto migliori. È un consiglio giusto secondo me? No, è certamente un consiglio giusto, perché all'interno della narrativa ambientata in certe nazioni, in certe situazioni, appunto, si possono trarre spunto per costruire un itinerario di interesse, anche fotografico. Tra l'altro ti dirò il consiglio di leggere a tutti, c'è un bellissimo libro che forse tu avrai, e lo consiglio di questa serie, che è il viaggio che hanno fatto Steinbeck e Robert Kappa insieme in Russia. In Russia. È bellissimo, un libro straordinario dove uno racconta l'altro fotografo, è un libro straordinario, no? La congiunzione proprio carnale fra... Sì, sì, fa parte della storia della fotografia e il lavoro dei fotografi assieme al giornalista o allo scrittore, insomma, ce ne sono tanti esempi da questo punto. Anche epoca era così, no? Life. Anche epoca, cioè life per certi aspetti, e poi epoca, cioè creare il servizio che doveva essere fotografico, ma attraverso le parole magari di un grande scrittore anche che le accompagnava, insomma. Certo, certo, certo. Franco, Frivini, si è arrivati alla scrittura, vedi? Si è arrivati alla... Eh sì, vedi, la complessità della fotografia ci fa partire dalla mera tecnica ad arrivare a contenuti completamente diversi. A questo punto io volevo ringraziare assolutamente del suo intervento e del suo prezioso tempo Vittorio e invitarlo presso la nostra Accademia una sera magari per approfondire insieme ai nostri amici che possono fargli così delle domande dirette e interagire con lui e sarebbe veramente una serata piacevolissima. Quindi grazie ancora e è stato un piacere e ci contiamo di vederci qui a Treviglio. Ciao, grazie. Grazie mille, arrivederci. Ciao, ciao, arrivederci. Grazie.